Good morning, sì, qui sono le undici, come dico in questi casi, certo non una mattina prestissima, una mattinata inoltrata, ma comunque mattina Mister Master Maestro o semplicemente David Lynch, it's April 20, 2022 and it's Wednesday, it enables a middle morning The day is still right now, 16, 6 and 25 at around 19 celsius, and this means that it's that day really, 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 really soft like these days in this period, secondo me anche un clima pestivo che è primaverile Quanto con c'è il video toots del giorno, non so se lo faccio, ma nel caso lo faccio è sempre separato da questo, quindi occhio Anyway, I see and you will just see from the window I think that it's after noon the temperature potrebbe salire ancora in qualche grado, ma vedremo Poi è vero, sembra che ci sono nuvole dietro, ma qualche nuvole al sole, non so se si vedeva, ma But really important thing with this atmosphere is that we are going to be enjoying those beautiful, those beautiful, those beautiful, those beautiful blue skies and golden sunshine all along the way Per cui bene, anche ieri c'era questo trend, anche se nel pomeriggio è un po' di nuvole, c'era no, però comunque credo veramente si mantenga così fino a stasera, vedremo Forse un po' come ieri, solo un po' di nuvole nel pomeriggio Per cui, say this, so, from the mythical window, with the orange, red, blue, green water, curtain, and it's green, roller, shooter, behind me, on the top, not visible, and infactor in the shot And finally, from the mythical keyboard, Yamadigix, 640, IPG, IPG, 625 And finally, I hope you all have a great breakfast Everyone, I will do it a little bit, my stomach is burnt, I don't know if you hear it, yes, so, we'll see you in the video, if I do it, tomorrow And finally, I will see you in the video, I will see you in the video, tomorrow I'm watching the video, and if you want the video, I'll be who this week, and time I'm not sure and get to hang out with me